È arrivato il momento di iniziare le nostre esercitazioni, o perlomeno è arrivato quel momento dove chi desidera può tranquillamente fare il polsoramento organico di un proprio primo progetto. Per chi al momento non ha ancora individuato un proprio progetto consigliamo lo stesso di seguire i capitoli sulle esercitazioni perché danno degli ottimi spunti di sapere quindi aiutano a vedere da un punto di vista pratico l'applicazione di ciò che è stato studiato nella parte di teoria e poi perché ci sono aspetti che sono assolutamente non indifferenti legati all'attivazione del tool. Questo è anche il motivo per il quale l'esercitazione parte proprio dall'attivare lo strumento perché vi sono delle funzioni di supporto utilissime per affrontare la parte di settaggi del proprio sito. o perlomeno per affrontare la parte più complessa che è quella che riguarda la creazione di un ottimo template SEO. Lo capiremo meglio strada facendo. Adesso cerchiamo di dedicare un minimo di tempo utile a spiegarvi come attivare gli strumenti gratuitamente senza nessun costo. Collegandovi a questo indirizzo troverete il sito che abbiamo predisposto per voi sostanzialmente. Ci sono molte informazioni interessanti e un sito sempre aggiornato quindi si passa anche da una prima sezione dove ad esempio sono presentati i corsi in quanto non c'è solo questo corso completo, vi sono altri corsi che teniamo sempre inerenti ovviamente all'argomento SEO. In ogni caso sappiate questo nel nostro sito quando abbiamo modo o tempo ci piace sempre tantissimo creare dei corsi che abbiano delle argomentazioni che siano utili a tutti. E i corsi per nostra scelta li trovate sempre al prezzo minore possibile, quindi i box che trovate sul nostro sito riportano a delle preview con dei link di acquisto dei corsi il cui costo è di 9,99 che è il prezzo più basso in assoluto che si possa applicare perché sotto quel prezzo Udemy non permette giustamente una politica di vendita dei corsi dei propri struttori. Scendendo e scorrendo il nostro sito trovate un'area dedicata a quella che è la nostra filosofia di lavoro che per noi è importantissima e che capirete anche meglio alla fine del percorso di studio che abbiamo predisposto in questo corso quindi capirete come in realtà la SEO Magic faccia tutt'altro lavoro quindi vada a supportare le grandi agenzie web nella gestione SEO di progetti complessi e abbia nella formazione un momento di piacere e condivisione di informazioni. Scendendo ancora troverete quelle che sono le licenze che abbiamo predisposto questa è appunto la licenza trial, quella gratuita che vi permette di affrontare un vostro primo progetto senza dover investire alcun costo. Continuando a scendere in questo piccolo homepage troverete quella che è l'area dedicata all'attivazione delle licenze ovvero un piccolo form contatti dove come potete vedere è presente Lisa che segue la parte di amministrazione, di gestione ed attivazione delle licenze trial che da attivare in realtà sono semplicissime. Vi basterà indicare il nome e cognome con il quale siete iscritti al corso questo per permettere a Lisa di fare un piccolo check e verificare la vostra effettiva presenza al corso. Vi chiederemo una mail perché su quella mail lì verranno inviate le credenziali di accesso del wizard. in modo tale che possiate collegarvi in automatico a questo indirizzo qui e inserendo username e password che vi verranno inviate via mail potete attivare lo strumento per iniziare le esercitazioni. Tutto come vedete è molto molto semplice. Vi ringrazio dell'attenzione e a questo punto a tutti quelli che attiveranno il wizard vi aspetto sul campo.